vuoi cambiare faccia alle foto in questo video ti mostreremo come fare un fotomontaggio del viso su un'altra immagine con photo works inizia con l'apertura della tua foto quindi vai alla scheda strumenti e clicca su cambia sfondo ora traccia il viso della persona con il pennello oggetto non devi essere super preciso ma cerca comunque di evitare di toccare l'area del collo altrimenti dovrai correggerlo o cancellarlo in seguito passa al pennello sfondo e segna lo sfondo con il colore rosso photo works separerà automaticamente il viso dallo sfondo se hai commesso degli errori puoi correggerli durante il passaggio successivo usando il pennello sfondo ora seleziona la nuova immagine di sfondo trasformiamo questo bell'uomo in una celebrità e scambiamo la faccia di Brad Pitt ridimensiona il viso per adattarlo infine sfoca i bordi e adatta i colori del viso allo sfondo rendendo lo scambio naturale quindi sostituire il volto è in realtà facile come bere un bicchiere d'acqua con photo works che ne dici di rallegrare i tuoi amici e la tua famiglia con foto divertenti scarica photo works dal sito ufficiale e scambia le facce in un attimo